Tutto ciò che facciamo noi è in funzione di ottenere la vostra approvazione, di andare a letto con voi, cioè tutto ciò che facciamo. Noi ci laviamo e basta, è tutto ciò che facciamo. E non lo facciamo neanche benissimo, perché se solo voi sapeste quanta poca cura io ci metto quando faccio la doccia nel lavare le gambe, è incredibile che io le abbia ancora. Prima ti lavi tutto, poi sotto, pa, pa. A volte arrivo a metà gamba e perdo l'equilibrio e dico va bene così, ci riproviamo domani. Oppure in scenari come questi dove ci sono dei bagni pubblici, così siamo tutti, vi do la garanzia che a qualsiasi uomo in sala se va in bagno ora qua, dopo aver pisciato, quando tira lo sciacquone ha un attimo in cui pensa che persona straordinaria che sono. Solo io ho avuto la decenza di tirare lo sciacquone in questo posto.